Più di 7.000 tecnici che con il loro lavoro hanno salvato migliaia di vite. Oggi il soccorso alpino e speleologico è un corpo in continua evoluzione, dinamico nello sviluppo di nuove tecnologie e tecniche di salvataggio. Il passato parla di passione e altruismo, valore indissolubili per noi che guardiamo il futuro nel segno del continuo miglioramento, di una crescita professionale e umana con traguardi sempre più alti. Grazie a tutti.